Le carote sono un ortaggio che va seminato al secondo turno della rotazione e non necessitano di letame fresco, che anzi potrebbe essere dannoso alle radici che poi si andrà a raccogliere Per le carote basta un suolo profondo e ricco di humus, meglio se caldo, soffice e sabbioso In primavera, al momento della semina, si porrà nei solchi solamente del composto maturo e ben setacciato I semi di questa pianta non temono il freddo, perciò possono essere interrati fin da marzo, anche se esistono varietà tardive che si seminano alla fine di giugno, per poi essere raccolte all'approssimarsi della stagione fredda Musica 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 Tracciate dei solchi profondi circa 3 cm, distanti tra loro 20, poi seminate e ricoprite i semi di terra e composto, quindi comprimete con il dorso del rastrello e annaffiate Le piantine andranno poi diradate a 3-5 cm Musica 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 In generale le prime carote, piuttosto corte, grosse e cilindriche, si possono raccogliere già dopo 75 giorni, mentre le varietà più lunghe impiegano più tempo, più la radice rimane nella terra, migliore sarà il suo sapore Musica L'epoca principale della raccolta è l'estate, quando le si potrà raccogliere un po' alla volta, per l'uso quotidiano Come è già stato anticipato, alcune varietà prolungano i tempi di raccolta fino all'inverno Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.